Billi a Chiappa Paura di Maria Loretta Giraldo con le illustrazioni di Giulia Orecchia edizioni libri Alice aveva gli occhi sgranati per lo stupore signor Billi gli ha domandato puoi farli vedere anche a me gli occhiali della luna o per bacco sì ha risposto lui ha tirato fuori dal suo mantello un paio di grandi occhiali non solo per Alice anche per ognuno di noi metteteli pure ha detto e poi ha aggiunto paura acchiappata mezza passata la luce della cucina ha tremolato un po' e poi si è spenta piano piano siamo rimasti al buio dalla pipa di Billi le bolle ora uscivano luminose con sfumature gialline azzurre rosa tanzavano nell'oscurità e mentre salivano prendevano la forma di piccole stelle e quando dalla pipa di Billi è uscito uno spicchio di luna dondolante nella stanza si è sentito un grande di meraviglia signor Billi io ho paura anche dei brutti sogni ha detto Alice che ormai aveva preso confidenza con lui per favore mi racconti una storia dei brutti sogni vuoi una storia ne ho una proprio perfetta e ha cominciato a raccontare la storia del bambino che scarabocchiò un brutto sogno c'era una volta un brutto sogno che ce l'aveva sempre con lo stesso bambino e perciò ogni notte andava a tormentarlo allora il bambino si svegliava di colpo chiamando mamma e papà che correvano nella cameretta preoccupati perché il loro bambino ogni notte faceva quel brutto sogno il bambino vedendo la mamma e il papà preoccupati pensava che allora ci fossero davvero un motivo di aver paura e piangeva piangeva più forte il brutto sogno era molto contento ogni volta che il bambino si impressionava per le storie che leggeva nei libri di paura o quando se ne stava da solo davanti alla tv a vedere scene di guerra o racconti di ladri e assassini sapeva bene che quella notte avrebbe potuto fare un ottimo lavoro la cosa sarebbe andata avanti chissà quanto se non fosse che quel bambino aveva una nonna che da giovane era stata una fata infatti nello sgabuzzino c'erano ancora il suo vecchio cappello a punta e la bacchetta magica quando la nonna venne a sapere di quel brutto sogno disse al bambino vieni qua con me cercò nel cassetto delle carabattole finché non trovò una grossa matita ecco disse al nipote mettila sotto il cuscino il bambino guardò la matita e cosa ci devo fare semplice rispose la nonna scarabocchiare il brutto sogno quella sì che era un'idea il bambino non vedeva l'ora che venisse notte infatti quando scoccarono i dodici rintocchi il brutto sogno arrivò a quattro quattro come sempre aprì la sua bocca spaventosa zac fece subito il bambino con la matita che sembrava una spada e gli scarabocchiò in un colpo solo tutta una fila di denti allora il brutto sogno sfoderò le sue unghiacce sporche appuntite e zac un colpo di matita e il bambino gliele aggrovigliò in un gomitolo di fili il brutto sogno per la prima volta in vita sua era spaventato cosa sono mai queste novità disse intanto cercava di darsi la gambe a più non posso ma prima che ci riuscisse il bambino gli disegnò due orecchie da asino un naso a carota e due baffoni a u e gli fece perfino un fiocco sulla coda fu proprio quel fiocco più il fiocco il tocco finale strilò allora il brutto sogno giuro che qui non mi vedete mai più e devo dire che fu proprio di parola se tu li colori tutti i tuoi sogni quelli brutti non faranno più spavento scapperanno come il vento grazie a tutti grazie a tutti